Benvenuti su Meteo Giuliaci, il tempo previsto per domenica 26 novembre. La perturbazione giunta nella giornata di sabato nel suo movimento verso Levante ancora interesserà le regioni adriatiche e quelle meridionali con delle piogge più o meno diffuse. Ma l'elemento di maggior rievo è che questa perturbazione è seguita da aria molto fredda di origine polare che già dalla sera si riverserà soprattutto sulle regioni di nord-est. Allora come potete vedere, come dicevo, ci saranno delle piogge soprattutto sulle Venezie, l'Emilia, la Romagna e al centro-sud, delle nevicate sulle Alpi, Carnica e Giulia fino a quote molto basse, potremmo dire tra i 400 e i 600 metri. Ovviamente questi venti freddi saranno di bora sull'alto e meglio adriatico appunto interessando soprattutto le regioni di nord-est. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.